ciao ciao a tutti mettetevi belli comodi perché ho tante cose da dirvi e so già che questo video sarà lungo allora finalmente vi parlo della mia skin care routine non ho mai fatto fino ad ora nel mio canale un video così specifico a parte un video girato molto molto tempo fa sulla pulizia del viso anche se mi rendo conto che nonostante vi abbia già mostrato alcuni prodotti di cui vi parlerò oggi in altri video nei prodotti finiti nelle recensioni specifiche e diciamo più utile fare anche video più specifici che può essere la cura del viso la cura dei capelli eccetera inoltre avete chiesto molti di voi sono stata taggata anche riguardo questo argomento argomento su instagram da nati naturals da mbio change e quindi ecco adesso vi soddisfo finalmente allora ho deciso di dividere i video in tre parti oggi vi dirò quello che io faccio la mattina poi fare un video sulla mia skin care serale e poi un video aggiornamento sulla pulizia del viso proprio aggiornamento di quel video che vi ho fatto tanto tempo fa ve lo metto sotto così se siete curiosi potete andarvelo a vedere anche perché l'ho fatto in modo molto dettagliato adesso sto usando qualche prodottino diverso quindi insomma vi mostro dei prodottini più del periodo più usati piccola puntualizzazione allora nella sincola routine di cui vi parlerò in questi video e che io vi metterò poi tutti sotto man mano che li registro di pubblico praticamente fa parte di una skin care routine che ho portato avanti per un anno e mezzo perché sì in effetti ci sono prodotti che utilizzo da più di un anno e che ho portato avanti fino a tre settimane fa perché per chi mi segue su altri social quali instagram facebook eccetera vi metto sempre i link tutti sotto sapete che ho ricevuto una linea completa di prodotti per la cura del viso della bisol quindi da tre settimane sto provando quello e tra un mesetto perché mi hanno chiesto di testarli per due mesi quando avrò finito di testarli ve ne parlerò in dettaglio facendo anche il confronto ecco con i prodotti di che vi mostrerò oggi e sì allora prima di mostrarvi i prodotti sicuramente vi devo riparlare un po della mio tipo di pelle soprattutto per chi mi conosce da poco la mia pelle del viso è molto molto mista molto molto mista perché ha sia delle zone differenti che hanno bisogno di prodotti diversi hanno esigenze diverse sia perché cambia a seconda dei cambi di stagione delle temperature maggiore o minore umidità e forse anche tante altre variabili che mi sono sconosciute allora in generale io la zona t quindi fronte naso e mento grasse grazie perché tendono a lucidarsi a formare i brufoletti anche se insomma è parecchio tempo che non se ne formino punti neri e sì questo insomma poi se in determinati periodi per esempio sudano sudano tanto quindi non riesco ad utilizzare le creme anche la zona ai lati delle guance quelle più vicine all'attaccatura dei capelli se non trattate bene formano punti neri e brufoletti poi invece ho la zona delle guance particolarmente sensibili è che in determinate situazioni o con certi prodotti tendono ad arrossarsi non penso di soffrire proprio di cuperose più di zone reattive sensibili che appunto poi creano queste macchiette rosse e sempre nella zona delle guance ci sono un po di polidilatati che comunque devo dire sono molto diminuiti però lì un po ci sono la zona degli occhi è grassa e tendente a formare i grandi di miglio tanto che per questo argomento vi ho fatto un video apposito e ve lo metto qui sotto qui perché ovviamente anche tutti quei trattamenti che faccio fanno parte della skin care routine però non vi ripeto tutte le cose dette in quel video vi invito ad andarlo a vedere e poi ho delle piccolissime zone che in determinate situazioni come per esempio quando fa troppo freddo si proprio screpolano che sono le zone ai lati del naso e all'inizio della fronte tra nella zona tra le sopracciglia quindi insomma vi siete fatte un'idea di che gran casino perché sì sembra che ogni zona sia proprio diversa e io col tempo ho imparato a guardarmi tanto osservare il mio viso e ad andare incontro alle sue esigenze io mi guardo il viso la mattina alla sera insomma lì da come sta scelgo i prodotti da utilizzare e questa è una cosa che dico anche a voi ossia tutti i prodotti consigli che troverete in questo video devono essere per voi un punto di partenza perché dovete adattarli alla vostra tipologia di viso di anche di stile di vita perché incide tantissimo infatti i risultati che ho ottenuto non sono stati ottenuti perché ho usato solo quella crema ma perché ho usato tanti prodotti tanta anche costanza come ad esempio anche la pulizia del viso un buon struccaggio quindi all'interno proprio ecco di una vera e propria routine costante ma anche all'interno di uno stile di vita sano senza fumo senza alcol con ottima alimentazione io soffrendo di intolleranze alimentari devo anche prendere degli integratori perché molte sostanze vitamine io non li assumo quindi devo prendere integratori io penso che tutto questo ha insieme anche al fatto di utilizzare anche un trucco tendenzialmente minerale comunque senza siliconi senza ingredienti troppo troppo grassi senza petrolati quindi tutto questo ha fatto sì che la mia pelle si lucidasse molto molto di meno anche quando non mi trucco di brufoli sono proprio veramente occasionali i punti neri sono diminuiti i poli dilatati anche i grani di miglio di nuovi non ce ne sono più sono andati via quelli vecchi la situazione è molto molto migliorata non ho raggiunto diciamo la piena soddisfazione perché per esempio appunto queste occasionali macchiette rosse che mi tornano e devo anche capire come sistemarle oppure ho delle perché non ve l'ho detto prima ho delle piccole macchiette solari ai lati di un occhio e sopra il labbro superiore che non sono ancora andate via devo trovare ancora diciamo i prodotti adatti a questi aspetti però insomma io mi ritengo comunque abbastanza soddisfatta ecco perché adesso mi sento di potervene parlare perché dovevo capire anche tutte queste cose prima di potervi dire cosa faccio io perché vi ripeto non si tratta solo del singolo prodotto ma si tratta proprio di entrare in contatto con la mia pelle che cosa vuole lei e cosa posso fare io per migliorarla allora cosa faccio la mattina la mattina io preparo la pelle per essere truccata oppure se non mi trucco perché ad esempio sono in casa per affrontare comunque l'intera giornata e ho sempre cercato e sto cercando ancora in realtà un detergente che lavi bene il viso senza troppo aggredirlo senza che poi appunto mi sorgano comunque i brufoletti o senza che ci siano troppi punti neri evidenti però neanche che mi crei quella sensibilità alle guance devo dire è veramente difficile trovare un detergente adatto a tutte queste tipo esigenze a che non secchi neanche la pelle perché anche quello utilizzato dei detergenti che per esempio mi seccavano la pelle lì dove è sempre stata solo grassa che è una cosa assurda per me non è facile ho fatto varie prove diciamo che ne ho trovato un paio per ora che sono una via di mezzo non mi soddisfano appieno però allora vi mostro questo che praticamente utilizzato per tutto il periodo estivo solo questo e prima lo alternavo a un altro detergente cioè sapone solido mediterraneo della saponaria che contiene anche aloe questo sapone è indicato per pelli miste ed effettivamente lava molto bene le zone più grasse però purtroppo almeno su di me sulle guance creava troppa troppa sensibilità quindi mi riuscivo con tutte le guance a chiazze rosse è invece un sapone che ama tantissime mio compagno infatti lui sta usando già la seconda confezione e gli sta piacendo tanto io all'inizio appunto lo alternavo poi basta l'ho messo da parte e praticamente per tutta l'estate anche per diciamo quattro mesi ho utilizzato solo questo come vedete ce n'è ancora un po' da 150 ml quindi mi è durato parecchio perché poi esce creando una nuvoletta spray una mousse quindi anche per questo dura di più allora la marca è la medica pait e questo è il red alert cleans calming forming cleanser allora io l'ho preso in un negozio qui a padova dove sono andata a fare anche un corso di trucco ve ne avevo parlato ecco parecchio parecchio tempo fa si può trovare anche in internet non è un'azienda italiana e il costo diciamo non è bassissimo però devo dire che mi sono trovata mediamente bene lava bene non aggredisce ed effettivamente quel effetto di macchiette rosse me lo ha creato solo in alcuni giorni chissà perché forse perché era aumentata l'umidità forse perché non lo so non ho idea quindi era una cosa più occasionale per questo diciamo che mi piace mi piace abbastanza non mi fermerò nelle mani ricerca però non è male un altro detergente che comunque io mi sento consigliere anche quello mi trovavo abbastanza bene tranne occasionalmente è stato il detergente quello per bambini di biofficina toscana che vi ho fatto vedere in altri in altri video vediamo se riesco a mettervi adesso la foto ecco così avete presente di che prodotto sto parlando quindi questi due sono una sorta di via di mezzo cercherò ancora però ecco mi piace non vi parlo degli ingredienti perché appunto il video diventa veramente lunghissimo ve ne parlerò quando farò la recensione dei prodotti finiti che perché insomma sono qua vi ho detto per ora l'ho messo da parte però non mi manca molto per per finirlo in genere come mi diciamo spalmo questa mousse sul viso o solo con le mani direttamente con le mani oppure con la spugnetta questa la congiac spongio queste quelle per la pelle sensibili di cui vi ho fatto un video proprio apposito recensione e ve lo metto qui sotto perché lì vi ho spiegato anche come ho fatto io per tenerla così sana e questa spugnetta ormai ha più di un anno forse anche di più non so non mi ricordo neanche più quando l'ho acquistata adesso nella fase asciutta quindi è dura ed è piccolina bagnata un po più grossa non si è rotta non ha creato punti neri l'unica cosa che notato proprio nell'ultimo periodo e che effettivamente la grana è diminuita è diventata un po più liscia sta perdendo il suo effetto però insomma dopo più di un anno di utilizzo praticamente quotidiano ci sta a me è durata tanto è ottimo veramente ottimo come prodotto perché vedo che lavava bene soprattutto nelle zone un po più grasse con i punti neri lava proprio bene in modo delicato quindi questi due prodotti in genere insieme poi io il viso di solito lo lavo in doccia è uscita mi prendo cura delle sopracciglia e lo faccio in quel momento perché con la doccia l'acqua calda i pori si sono dilatati diciamo più o meno è smuso l'acqua mediamente calda tiepita anche in estate non mi faccio mai la doccia totalmente fredda so che per i tessuti della pelle del corpo sarebbe meglio alternare caldo freddo ma io non ce la faccio ecco sì ci provo ma non ce la faccio quindi comunque con i poli dilatati mi sistemo le sopracciglia così i peli si tolgono anche più più facilmente dopo questa operazione applico il tonico il tonico per ripristinare il ph durante l'anno scorso ho usato vari tonici in particolar modo avevo parlato di quelli di amtos che mi erano piaciuti tanto però nel periodo estivo quindi per tre quattro mesi ho provato un nuovo prodotto mi è piaciuto tantissimo e io vi consiglio questo allora sto parlando dell'idrolato alla lavanda di biofficina toscana è uno dei quattro idrolati più recenti usciti della di biofficina toscana e tra i tanti conosciuto deciso di provare questo perché come indicato qua indicato per le pelli impure ma anche delicate e concuperose è sì è vero ha qualcosa in più anche rispetto all'idrolato di amamelis io ho provato solo quello della saponaria anche la mamelis è indicato per le pelli miste questo è qualcosa in più a qualcosa in più anche rispetto a quelli di amtos quindi non che quelli non siano buoni prodotti ma da quando ho usato questo io penso questo il mio idrolato e l'idrolato di quest'anno sono stata contentissima di averlo provato ero rissia perché essendo la lavanda a me la profumazione della lavanda non piace infatti l'unica pecca di questo idrolato è la profumazione però devo dire che qualcosa al quale mi sono abituata subito cioè dopo i primi utilizzi dove insomma l'impatto è stato forte veramente forte di questa profumazione dopo mi sono talmente abituata che non ci ho fatto più caso e comunque poi si saurisce anche in fretta in breve tempo non è che ve lo portate per tutta la giornata quindi è una cosa veramente facilmente superabile questo è uno tra gli idolati creati dalla biofficina scusatemi da biofficina erano di quelli che non andava diluito e infatti viene venduto anche con questo pratico spray infatti da quando iniziato questo idrolato io ho totalmente anche eliminato i dischetti di cotone perché anche informandomi ho scoperto che i dischetti nonostante dicano 100% cotone in realtà non si sa bene come vengono lavorati a volte sulla superficie hanno il petrolato e quindi forse anche per quello io poi applicando il tonico sulla pelle con il dischetto non facevo altro che irritare ancora di più le zone più sensibili ho tolto quelli ho imparato veramente non ho mai prima di questo non ho mai usato un idrolato o un tonico in modalità spray quindi all'inizio mi sono dovuta abituare prima andava ovunque sui capelli tranne che sul viso poi ho imparato e mi sono trovata benissimo io lo spruzzo sul viso 23 spruzzate poi con le dita picchietto il viso anche un po lo massaggio per far assorbire questo liquido perché ovviamente è liquido ottimo ottimo perché vedevo proprio la pelle più distesa non so proprio un effetto ottico che a me è piaciuto tantissimo sarà stato soltanto una mia impressione non lo so però mi ha colpito rispetto a tanti altri dolati e tonici che utilizzato fino ad ora questo è diventato il mio preferito dopo l'idrolato e dopo aver semipicchiazzato il viso io lascio che si asciughi e passo ai sieri sieri a base acquosa e di questi insomma vi avete già sentito parlare tante volte vi ho fatto anche un video apposito e anche quello ve lo metto qui sotto sono i sieri sempre di bioefficina toscana siero riequilibrante e siero purificante perché due perché siero riequilibrante lo mettevo sulle zone appunto delle guance quelle che tendono ad arrossarsi o sulle zone anche che tendono a scherpolarsi quello purificanti invece sul naso un po più la fronte e il mento per appunto dare questo effetto purificante come vedete questi sono mi pare la seconda terza confezione quarta non mi ricordo più che ho comprato anche questi ce n'è pochissimo ancora saranno altre due tre applicazioni e poi saranno finiti allora forse qualcuno me lo chiederà ve lo dico voi sarate pensando è che adesso tu hai messo da parte tutti questi prodotti stai usando gli altri andranno a male no hanno tutti un pao che rientra nel mio utilizzo questi sono sei mesi di pao però vanno benissimo anche il resto quindi è tutto calcolato li utilizzerò dopo non vi preoccupate sapete che uso tutto non butto niente e fino ad ora non mi è andato mai niente a male anche quando ho avuto delle collaborazioni e ho messo da parte alcuni prodotti per usarne altri e poi riprenderli e comunque un'altra cosa che vi devo dire anche prima non cambiate troppo spesso prodotti per il viso infatti come vedete quelli che sto usando adesso della per la bisoli sto usando almeno per due mesi dopo deciderò anche in basse se mi finiscono no perché insomma poi prodotti finiscono anche cosa finire e cosa non finire però per due mesi mantengono la routine e anche i prodotti che vi sto mostrando adesso come vi ho detto molti li usati cioè questi li utilizzati tutte le volte li ho anche ricomprati non so sarà stato più di un anno e mezzo quindi questo è importante perché anche cambiare troppo i prodotti poi la pelle insomma può anche la reagisce quindi i sieri allora come applicavo i sieri non so se ve l'ho detto in quel sito in quel video questi hanno entrambi una pipetta per questo sì di solito uno era sufficiente cioè riempire una pipetta sola mettendomi le gocce sulle dita e poi sulle zone del viso e picchiettandole perché essendo anche queste a bassa acquosa non stavo proprio li a spalmare altrimenti più prodotto va più sulle dita che sul viso l'ho picchietto un po e poi lascio che si asciughi autonomamente quindi questi due poi diciamo che dopo i sieri anzi in realtà prima dei sieri ecco questa cosa mi è dimenticata perché in realtà da tanto tempo che non l'uso non l'uso se mi ritrovo dei brufoletti allora applico uno stick proprio per il brufoletto ho utilizzato insomma per molto tempo quello del dottor organic che sapete insomma vi ho recensito è solo recentemente ma ne ho usato pochissimo perché mi capita raramente di utilizzarlo ho introdotto questo di green energies organics è totalmente diverso anche cominci rispetto a quello di dottor organic come affetto diciamo come l'altro cioè se il brufolo deve proprio uscire farà il suo corso e ci sarà se si prende diciamo in anticipo quando si sente un fastidio fa più effetto non mi ha creato problemi però vi ho detto lo uso proprio raramente ce l'ho nelle occasioni particolari e ovviamente noi sono contenta di utilizzarlo solo occasionalmente dopo i sieri a e io i sieri li applico anzi solo il siero questo purificante lo applico l'ho applicato anche nella zona del contorno oculare perché avendo chiesto biofficina toscana loro mi ha detto che si può applicare anche in quella zona proprio perché grassa quindi io questo lo applicavo anche lì poi passo al contorno occhi e come vi ho detto nel video sui grandi miglio io cerco di usare solo contorno occhi a base acquosa e tra quelli che ho provato mi era piaciuto molto quello dell'antos però nel periodo estivo ne avevo iniziato un altro che tra l'altro ancora qui nella scatolina che questo di john zack anche questo non ha molti oggetti però è più cremoso mentre quello della dott organiche no scusatemi di l'antos è proprio geloso questo è più cremoso ve lo faccio vedere qui ecco va bene ho fatto uscire tantissimi infatti questa va premuta proprio piano piano perché se no ne esce tanta tanto prodotto qua c'è questo e allora come vedete comunque si massaggia velocemente infatti rispetto a quello dell'antos il john zack mi piace di più perché si asciuga più facilmente si assorbe più facilmente e quindi ci si può anche truccare subito invece il quello di di antos ci metteva un po più di tempo e quindi se si va di fretta insomma non è proprio l'ideale mi è piaciuto mi è piaciuto perché sì non mi ha creato grani di miglio effettivamente ha pochi oli penso forse verso sì verso la fine e ha un effetto leggermente più idratante rispetto a quello di antos non è adatto a chi ha problemi di rughe problemi di diciamo contorno occhi veramente veramente secco perché come vedete la mia mano è già asciutta si asciuga in fretta non è così ricco va bene per chi ha il mio tipo di pelle nel contorno occhi ma lì vi rimando un altro video se no ecco mi perdo in chiacchiere anche in questo e poi allora passiamo alla crema viso allora perché anche qui c'è tanto da dire allora se mi devo truccare tendo ad utilizzare una crema che sia più idratante almeno l'ho fatto nell'ultimo periodo diciamo che nel periodo estivo io mi fermo ai sieri e mi trucco perché non regge molto le creme la mia pelle quindi mi bastano i sieri e mi trucco quando invece fa un po più freddo come ecco nel periodo invernale necessito di un po più idratazione però ovviamente devo usare qualcosa che però non mi crei brufoli quindi si idratante ma non così ricco e l'anno scorso inverno ho trovato questo e mi è piaciuto tantissimo e ce n'è ancora un po è della violetti la crema viso soft giorno e notte alla calendula mi piace perché idrata il giusto ecco non in modo eccessivo infatti non è che poi il viso mi si lucida o qualcosa del genere escono i brufoli e anche limitiva perché avendo la colana la calendula è ottima quindi anche per le zone del viso appunto più che si tendono ad irritare o a formare quelle macchiette rosse e anche le zone del viso che tendono a screpolarsi soprattutto con l'inverno effettivamente mettendo questo sono più idratata quindi mi è piaciuta tantissimo è una quindi una crema diciamo di media idratazione questa è la consistenza che questo tra l'altro si ovviamente non messa in grossissime quantità si assorbe in fretta e quindi poi la pelle è pronta per essere truccata questo è ecco come vedete mi piace mi piace mi è piaciuta molto e infatti comunque un pao di 12 mesi e al di là appunto dei prodotti che sto usando adesso più la se avessi bisogno continuano ad utilizzarla mi piace mi piace veramente molto trucco non vi voglio parlare ovviamente del trucco in questo video però è una cosa che secondo me fa parte della mia skin care routine perché io vedo che quando uso quel tipo di fondotinta la mia pelle dopo quando mi strucco il giorno dopo è più bella ed è questo non ho detto tante tante volte è il fondotinta minerale di lirirolo ha degli ingredienti che assorbono il sebo anche una protezione solare quindi infatti l'ho utilizzato anche nel periodo estivo nel periodo invernale mi trovo benissimo io con qualunque stagione mi trovo bene certo se ho quelle zone più secche vi ho detto devo utilizzare quella crema più più idratante mi trovo bene e non mi ha mai fatto sorgere brufoli in purità non mi fa lucidare il viso a volte tipo tipo nel periodo estivo ho usato questo senza blush perché senza blush senza cipria perché sentivo troppo il viso carico quindi era sufficiente questa ottimo io lo introduco vi ripeto nella mia skin care routine perché questo fondotinta fa la differenza rispetto a tutti gli altri che ho provato fino ad ora proprio per l'effetto di salute che dà alla mia pelle se invece non mi devo truccare o non ho diciamo particolari esigenze di pelle sensibile ma ho più quelle di imperfezioni uso lo sapete la mia crema viso la mia perché è mia la sento mia la crema viso purificante dell'archimilla questo credo sia la terza confezione che acquisto mi piace tanto tantissimo tra l'altro si è vero che un paio di sei mesi ma a me dura sempre sempre più di sei mesi anche quando l'ho utilizzata ininterrottamente senza fare altre prove di qualcos'altro mi è sempre odata tantissimo e non è andata mai a male e anche questa di questa crema come l'altra io metto cinque metto delle puntine una puntina sulla fronte una sul naso una sul mento e due sulle guance e poi spalmio le crema con con le mani massaggiando delicatamente questa crema è fantastica quando avevo soprattutto più impurità applicata dopo due tre giorni andavano via io penso che anche per questa crema che non siano sorte non impurità la pelle la vedo più proprio delicata si lucida proprio di meno tutti questi prodotti insieme me la fanno lucidare molto molto di meno quindi ve lo già recensite ve ne ho già parlato io l'adoro è proprio la mia crema jolly anti impurità assolutamente se tra l'altro sto finendo se appunto resto in casa non mi trucco applico il mascara rinforzante sopracciglia quello che ho fatto io vi metto il link del video sotto del tutorial e sulle labbra questo sempre ovviamente soprattutto prima di truccarmi burro cacao e questo periodo su alternando quello fatto da me anche di questo vi ho fatto il video ve lo metto sotto che trovo ottimo e questo che mi è stato regalato da eleonora della al verde che è leggermente ma proprio leggermente un po lucido colorante e devo dire che 32 io comunque continuo ad apprezzare il mio perché questo in qualsunque condizione e per tante tante ore non mi fa seccare la pelle la verde non è male devo dire che come prodotto insomma non è male sono molto molto esigente io per quanto riguarda le labbra forse perché a volte mi capita di bere poco non so si seccano molto molto facilmente questi due prodotti insomma non non sono male ecco poi quando avrò tesato qualche altro burro cacao e fare un video apposito allora io penso di avervi detto tutto per quello che faccio la mattina e sapete il video è lungo però ho cercato di dirvi tutto spero di non aver dimenticato nulla il prossimo video sarà sulla mia skin care serale se avete qualche domanda qualche curiosità qualcosa che non ho spiegato bene ovviamente fatemi sapere perché poi io vi rispondo sotto o comunque poi se mai ne parlo in altri video quindi se volete e se avete trovato video il video utile ci vediamo ai prossimi video e prossime volte ciao